Nel giro di due anni l'amministrazione provinciale punta a traslocare dallo storico palazzo di via Gramsci. Un'esigenza già esternata mesi fa e che ora diventa sempre più pressante alla luce di mesi in cui il caro energia sta diventando una voce troppo destabilizzante all'interno di bilanci pubblici che incidono su una sede già eccessivamente sovradimensionata rispetto alle attuali esigenze dell'ente. Sì, io ricordo sempre che una volta nei tempi d'ora delle amministrazioni provinciali noi eravamo arrivati ad avere 700 dipendenti, oggi siamo 210. La struttura è una struttura di più di 7000 metri quadri e sulla base degli standard ministeriali per noi sarebbe sufficiente una struttura di 3000-3200 metri quadri, quindi sicuramente sovradimensionata, ma non solo questo, anche dove ho l'ufficio io, questa sede qua che chiamiamo la nuova sede, è un edificio costruito negli anni 60 che necessita interventi molto importanti e costosi di adeguamento sismico, ma anche da un punto di vista dell'efficientamento energetico è un edificio che ha tanti problemi, a partire dagli infissi, alla centrale termica, impianti vecchi, quindi richiederebbe investimenti importanti, quindi stiamo ragionando sulla possibilità di trasferirci in un'altra sede. Dopo diverse ipotesi ventilate in questi mesi, l'area delle 5 torri del Cinema Metropolis sembra la destinazione adeguata a parere della stessa amministrazione. Poi dovremmo fare chiaramente una procedura di evidenza pubblica, quindi un avviso pubblico, dire quale edificio stiamo cercando, con quali caratteristiche, però ho già individuato un qualche cosa che potrebbe interessarci nell'area del campus scolastico. Questo è interessante perché noi stiamo lavorando sull'ipotesi di realizzare un impianto fotovoltaico a copertura di tutti i parcheggi del campus scolastico e questo impianto, mi dicono i tecnici, potrebbe rendere autosufficiente il campus scolastico da un punto di vista energetico, ma potrebbe anche produrre energia per un'eventuale nuova sede della provincia lì in quell'area. Un'area individuata nel Metropolis dove potrebbe partire il nuovo ciclo di presidenza di Giuseppe Paolini, unico candidato alla rielezione del 18 dicembre.